Tutti qua bambini, pronti? Eeeh! Viva! Inaugurazione questa mattina del Parco Giochi di via Rachele Tognana nel quartiere trevigiano di Sant'Antonino. Un'area pubblica di 1500 metri quadrati con tre zone gioco per un costo complessivo di oltre 70 mila euro. Un nuovo punto di aggregazione per una parte del quartiere a cui presto se ne affiancheranno altri due. Un Parco Giochi alla parte alta di Sant'Antonino che ne era sprovvista. Gli altri due prossimamente saranno a breve termine. Il primo, quello vicino alle scuole Carrère, l'altro ancora sarà quello vicino a Sant'Antonino, vicino a via Bampo dove c'è un altro parchetto già fatto. Ma gli interventi sul quartiere si estenderanno anche alle piste ciclabili? Questo mese parte il primo stralcio della messa in sicurezza di via Sant'Antonino dal confine comunale di Casier con la costruzione anche di una passarella perché qui c'è un incrocio molto stretto fino alla scuola materna di Sant'Antonino. Qui il comune ha previsto di rialzare tutta l'area con il doppio obiettivo di rallentare il traffico per la sicurezza dei cittadini ma anche di dare la sensazione di una piazza unica davanti alla chiesa. Poi ci sarà un ulteriore stralcio. Dalla scuola materna fino alla ferrovia, quindi fino a dopo le scuole Manzoni e lì metteremo in sicurezza tutta l'asta di Sant'Antonino.